Amico Purtetti, e ora vi andiamo al micro, mi date fuori, le tue le voce, non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli. Non siete soli, non siete soli. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.